Gommoni alla deriva nel canale di Sicilia, barconi che arrivano senza essere intercettati fin sotto le scogliere, in particolare a Lampedusa, barche a vela cariche di migranti sulla rotta della Turchia che punta sulla costa ionica della Calabria. Ne abbiamo visti tanti negli ultimi giorni a roccella ionica. Dunque proseguono gli sbarchi sulle coste italiane e sono ormai oltre 52 mila gli uomini, le donne e i bambini che dall'inizio dell'anno sono approdati nel nostro paese con il sogno di raggiungere l'Europa, il doppio di quanti ne arrivarono nel 2020. Numeri che Matteo Salvini prende come spunto per l'ennesimo attacco al ministro dell'Interno Luciana Lamorcese. Avvisate il ministro a Bruxelles che in Italia ormai sbarca chiunque, dice il leader della Lega, che però viene in qualche modo stoppato dal suo stesso ministro Giancarlo Giorgetti. Il governo italiano sottolinea sui temi divisivi non potrà prendere decisioni divisive e un governo nato in un certo momento storico per dare certi tipi di risposte, poi saranno i cittadini al voto a decidere. Parole dure nei confronti di chi chiede muri in Europa e auspica respingimenti in mare arrivano invece dal Papa che nell'Angelus tuona contro i governanti chiedendo di porre fine al ritorno dei migranti nei paesi non sicuri a partire da quello della Libia dove vi sono veri lager e una violenza disumana per dare invece priorità al soccorso di vite. A dare il primo allarme nella giornata è l'iPhone segnalando due barconi carichi di migranti alla deriva tra la zona SAR di competenza libica e maltese nel bel mezzo del mar Mediterraneo. Il primo è un gommone con una sessantina di migranti a bordo. Il mercantile Afma Malacca che si è avvicinato alla barca riferisce di un possibile rispingimento della SAR di Malta. La posizione segnalata a tutti i mezzi in zona ha però consentito alla Geo Barent, la nave dei medici senza frontiere, di raggiungere in tempo il gommone. L'altra, quella che coinvolge la Calabria invece, è la rotta che dall'Egitto e dalla Turchia porta sulle spiagge calabresi. Negli ultimi giorni il flusso non si è mai interrotto come dimostrano i sessbarchi avvenuti tra venerdì e sabato a Roccella ed oggi è stata la volta di una barca a vela con 77 persone a bordo intercettata a largo di Santa Maria di Leuca. A bordo 12 siriani tra cui una donna e 65 egiziani, 35 dei quali minori. Stanno tutti bene e hanno raccontato di essere partiti ovviamente 5, 6, 7 giorni fa. E mentre tutto prosegue, nonostante il maltempo e le grandi difficoltà, nel porto delle Grazie di Roccella Ionica, la Croce Rossa italiana sta montando una tensostruttura che servirà ad accogliere i migranti dopo l'ultimo sbarco, quando molti sono stati costretti a dormire sul molo. Comunicazione che è stata diramata dalla Prefettura, anche quella dell'arrivo di una nave quarantena che dovrebbe sostare nelle acque antistanti il porto di Roccella Ionica, dove verranno caricati a bordo tutti gli immigrati sbarcati e che sono risultati positivi dopo il tampone al coronavirus, dunque svolgeranno lì il loro periodo di quarantena. Questo dovrebbe certamente allentare il problema dei posti letto. Il centro di primo soccorso di Roccella Ionica, che deve essere strutturato, c'è un finanziamento di circa un milione di euro, in attesa di questi lavori, è soggetto ora ad una capienza massima, quella stabilita dal comune di Roccella Ionica in accordo con la Prefettura. Si parla di 120 unità, ma già la scorsa notte sono stati 180 quelli che sono stati costretti ad essere accolti dalla struttura.